Come è la squadra di Avellino? Quindi sappiamo che non sarà una partita facile, sappiamo che tireranno fuori le unghie per provare a portare a casa questo risultato che per loro è fondamentale per la salvezza e noi sappiamo che andiamo a fare un'altra trasferta e le partite in trasferta sono sempre molto ma molto difficili. Questo ci fa piacere però dobbiamo sempre capire da dove partiamo, quali sono i nostri obiettivi. Ci siamo guadagnati il fatto di essere nella posizione dove siamo per il lavoro, per l'abnegazione dei ragazzi, per lo spirito di sacrificio e di stare assieme che hanno. Però sappiamo che arriveranno anche momenti duri, noi vogliamo che questo momento duri il più possibile. Però con la stessa serenità vivremo anche quei momenti, tutto lì. Da valutare, nel senso che ieri sera abbiamo dovuto terminare un attimo prima l'allenamento perché c'è stato uno scontro fra il ginocchio di Jerome Dyson e quello di Michael Schneer. Oggi Jerome accusa dei fastidi alla schiena, valutiamo ora per ora come intervenire per cercare di farlo arrivare pronto per la partita. Grazie a tutti.